L'obiettivo di ogni programmatore è scrivere meno codice sfruttando quello che si è descritto e a questa regola non sfugge neppure il meccanismo dei costruttori per fortuna. Esiste infatti un meccanismo sintattico che permette in modo elegante di un costruttore di riferirsi ad altri. Con l'ovvia idea che se i costruttori già scritti già svolgono alcune operazioni che dovrebbero esserle anche da quello nuovo è inutile riscriverle. È inutile avere due basi di codice da manutenere. Una sola. E quando faremo le modifiche basterà modificare solo il codice di quell'unica copia. In fondo è lo stesso concetto dietro all'utilizzo delle funzioni e della modularità in generale. Raggiungeremo due obiettivi. Il primo è il poter scrivere costruttori con un numero variabile di parametri. Il secondo è di poter scrivere costruttori con una configurazione anche completamente diversa dai parametri. Come esempio del primo vi propongo un costruttore che fa a meno del terzo parametro cioè l'anno perché lo prenderà in automatico dall'orologio di sistema. Quindi si potrà introdurre qualche cosa come creami una data dal primo giugno e automaticamente verrà aggiunto 2013. Ha anche senso. Il codice è straordinariamente corto. Quindi si mettono il pubblico. Il pubblico. Il pubblico. Soltanto due parametri. Il giorno e il mese. E poi per richiamare quest'altro costruttore si mettono i due punti e this. This vuol dire sto richiamando un costruttore vorrei richiamare un costruttore che rispetta questa configurazione di parametri e se non c'è sono guai di questa stessa classe perché più avanti vedremo che oltre al this si può utilizzare un'altra parolina base che invece richiama i costruttori delle classi madri nel meccanismo dell'ereditarietà. Significa ancora prima di cominciare ad eseguire le istruzioni nuove diverse che non sono già svolte da questo costruttore qui e non ce ne sono vedete ho lasciato vuoto chiama il tuo fratello che già sa cosa fare con giorno mese e l'anno. Certo l'anno questo costruttore non lo riceve per cui devo decidere in qualche modo un valore potrei mettere 1970 fisso ma abbiamo detto il costruttore serve per date dell'anno in corso e quindi una cosa furba fa riferimento alla classe date time che ha una proprietà now che è una data ovvio che anche il punto net ci ha pensato prima di noi a implementare la classe delle date noi stiamo un po' emulandola e posso estrarre con punto here il suo anno. In un certo senso questi tre parametri sono passati all'ala al fratello che sa già cosa fare e tra il sa già cosa fare anche il controllo tutte cose che avrei dovuto ripetere qui senza questo meccanismo. Ogni vantaggio ha però il suo prezzo qua è un po' nascosto. Usando il this io sto legando un pochetto anzi parecchio questo costruttore a questo costruttore quindi non avranno più una vita indipendente. Viceversa senza il this potrei utilizzare costruttori che fanno cose anche completamente diverse. Siamo nel codice del bottone sulla form per un esempio di utilizzo. Quindi creo una nuova data e vengono accettati anche solo due parametri il 5 luglio. Mettiamo un breakpoint nel costruttore che riceverà questi valori per seguire l'evoluzione. Anzi qui. E qui nulla di strano. Abbiamo richiamato il costruttore con 5 e 7. Adesso utilizziamo questa modalità di esecuzione passo passo che va all'interno del codice della routine richiamata. La routine richiamata è col this, questo metodo ovviamente. Questo invece salterebbe di un botto e passerebbe praticamente le parentesi graffe per poi terminare l'esecuzione di questo costruttore. Ho bloccato temporaneamente perché mi sono accorto di uno svarione. Qui avevo associato sia al giorno che al mese che all'anno sempre la A. Chiaramente AGG, assegna G, al mese, il mese e così via. Riprendiamo allora da qui. Quindi, la prima cosa che si fa, ancora prima della prima istruzione del primo costruttore richiamato, è andare a sistemare e allocare lo spazio per lo stato interno, assegnando eventualmente i valori qui indicati. Viene fatto chiaramente sia per G che per M che per l'anno. E poi, seguendo la logica spiegata prima, il this ha veicolato il flusso d'esecuzione qua al primo costruttore che riceve il 5, il 7 e questo daytime.now.year che è ovviamente 2013. E qui sì che posso saltare a dopo l'esecuzione di data corretta perché sappiamo già come funziona. Così. E poi, qui rispondiamo di sì, andare avanti. E' scattata la property, probabilmente, mi chiedeva se andare dentro nella property oppure proseguire di qui. Ok, stessa cosa. Andiamo avanti. Terminato il this, si torna ancora indietro qua a chi ha richiamato col this il costruttore, cioè il secondo. Poi si termina perché qui non c'è nulla da eseguire. E l'oggetto è stato costruito. Blocco l'esecuzione. Vediamo un esempio leggermente più complesso. Voglio darmi la possibilità di creare una data anche specificando la stringa secondo il classico formato giorno, mese, anno. Così. Questo è il costruttore, public date string, data. Anche lui trova il modo di sfruttare l'opera del costruttore base, principale, diciamo così. Premetto che non ho gestito il controllo del formato della stringa, cioè se il giorno è espresso con una cifra sola, due cifre. Insomma, sono tecniche comunque di programmazione note. Quindi facciamo finta che giorno e mese siano espresse sicuramente con due cifre. Mi concedo solo la possibilità che l'anno sia espresso come 13-2013. Ok? E tutto sommato la stessa tecnica la potreste subito adottare anche per il giorno e il mese. This. Voglio richiamare questo costruttore. Quindi tre parametri. Le ho messi ciascuno su una riga per maggiore leggibilità. Il giorno è quella sottostringa della data che comincia alla posizione 0 e prosegue per due caratteri. Il tutto lo converto in un intero perché il costruttore pretende appunto questo tipo di dato. Il costruttore richiamato col this. Stessa cosa con il mese, saltando il trattino, prendendo i due caratteri che seguono. E infine l'anno. Per l'anno estraggo la stringa di due caratteri o quattro caratteri. Come faccio a scegliere? Come faccio a capire che lui mi ha specificato 13-2013? Dalla lunghezza totale della stringa che mi è stata passata. Allora, io estraggo come sottostringa a partire dalla posizione 6. Questa è fissa. Sia che siano due cifre che quattro cifre. Poi, espressione condizionale, per sapere quanti estrarne, se due o quattro. Beh, dipende. Dalla lunghezza abbiamo detto della data ricevuta. Quindi data.length è uguale a 8, punto di domanda. Allora vuol dire che l'anno è 13 e prendo solo due caratteri. Altrimenti sarà 4, potrebbe essere anche 40, però io non ho controllato, insomma, ripeto. E quindi prendiamo, a partire sempre dalla posizione 6, quattro caratteri invece di due. Finito. Il meccanismo dei costruttori che richiamano altri costruttori è molto potente. E permette, riassumendo, di mantenere la base di codice meno ridondante possibile. E il funzionamento dell'oggetto di quella classe il più coerente possibile. Perché riscrivendo da capo un altro costruttore potrei dimenticarmi certi particolari che avevo valutato scrivendo i precedenti. Invece, facendo riferimento sempre a quelli che ho già scritto, è ovvio che tutto il buono che ho tirato fuori dalla mia analisi me lo eredito in quelli che richiamano i precedenti col DIS. Alla prossima.